Di scena a Tolentino l'arte della bomboletta con il Writing Day, l'evento dedicato all'espressione artistica del graffito. Si tratta della seconda edizione di una manifestazione già organizzata nel 2009, grazie all'impegno di un gruppo di giovani writer, dei 84 Crew e la collaborazione dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Tolentino e dell'Informa Giovani. A Tolentino, grazie anche al contributo dell'assessore alle politiche giovanili, abbiamo ottenuto questo spazio. Tutto questo serve per togliere dal degrado questi luoghi e dargli vita, renderli più colorati e più vivi. L'intento di Writing Day è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché i graffiti vengano finalmente considerati e apprezzati per quello che realmente sono e valgono. Si tratta infatti di una forma d'arte che spesso, a causa della sua scarsa considerazione, non riesce a trovare adeguati spazi urbani per potersi esprimere al meglio. Che cosa significa per te avere uno spazio dove poter dipingere? Per me tante cose significa, comunque sì, metterci la faccia e poter comunicare ad altre persone che io esisto e insieme ad altre persone possiamo cambiare tante cose. Il comune di Tolentino si è mostrato sensibile a questa problematica. L'evento Writing Day è infatti inserito all'interno di un progetto più ampio, approvato dall'amministrazione comunale, che mettendo a disposizione dei writers alcuni spazi pubblici e privati, intende promuovere la creatività giovanile, recuperare spazi degradati, colorare la città e combattere anche chi imbratta muri e monumenti.